Ciao a tutti e benvenuti su MITG Pills by Maggis of Lotus. Oggi vi porto un'interazione che per i commanderisti veterani sarà ovvia, ma visto che al formato si sta avvicinando molta gente nuova, è giusto ripassarla, perché non hanno mai visto magari queste carte. Oggi parliamo di Sylvan Library più Dredge. Sylvan Library è un potentissimo che spesso decreta già all'inizio il vincitore della partita. La costo 2 permette durante la fase di acquisizione di pescare due carte addizionali. Se lo facciamo per ognuna di queste carte pescate in più possiamo pagare o quattro punti vita o posarla. Quindi praticamente ci fa scegliere tra le prime carte alla peggio o in alternativa, se siamo contro un mazzo che non importano le vite, possiamo pescare due o tre a turno pagando delle vite. Con Dredge riusciamo a fregare questa cosa, perché noi possiamo pescare le carte addizionali, cambiare queste pescate addizionali in Dredge, se abbiamo appunto i draganti nel cimitero, e poi non dobbiamo posare niente, perché quando poi la Sylvan Library cercherà delle carte in più pescate qua su turno non ci saranno, perché le carte dragate vengono aggiunte alla mano e non pescate. Qui essenzialmente possiamo pescare una carta di turno e riciclare due draganti così a gratis e non pagare niente. Bella tecciata insomma. Ricordatevi di iscrivervi e grazie per tutto e alla prossima.